Non si può servire Dio e le ricchezze, l'uno esclude le altre. Lo ha ribadito con forza Papa Francesco, celebrando la missa nella cappella della Casa Santa Marta. Gli averi terreni infatti corrompono il cuore dell'uomo, come un tarlo o la ruggine, aprendo la porta ad altri vizi. Di qui l'invito del Pontefice ad accumulare solo tesori in cielo, amministrando le ricchezze per il benessere collettivo. Ma alla fine... Queste ricchezze non danno la sicurezza per sempre. Anzi, ti portano giù nella tua dignità. E questo in famiglie, in tante famiglie di viste, anche la radice delle guerre c'è questa ambizione. che distrugge, corrompe. In questo mondo, in questo momento, che ci sono tante guerre per avidità di potere, di ricchezze, anche si può pensare la guerra al nostro cuore. Tenetevi lontano da ogni cupidiccia. Così dice il Signore. Perché la cupidiccia va avanti, va avanti, va avanti. È uno scalino. Apre la porta. Poi viene la vanità. Credersi importante, credersi potente. E alla fine l'orgoglio. E da lì tutti i vizi, tutti. Sono scalini. Ma il primo è questo. La cupidiccia. La voglia di accumulare ricchezze. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti